La sicurezza negli edifici scolastici è un problema non da poco, soprattutto in una terra ad alto rischio sismico come il Molise. Proprio per questo a Campobasso è stato presentato il progetto Avus per San Giuliano, un'iniziativa organizzata dal Consiglio Nazionale dei Geologi in collaborazione con l'Associazione Vittime Universitarie dell'Aquila. Vogliamo iniziare un percorso di disseminazione culturale che vada verso la conoscenza dei fenomeni sismici, la conoscenza delle strutture in cui questi ragazzi vivono. Non vogliamo ovviamente fare allarmismo, però vogliamo sottolineare che le scuole italiane hanno un problema. Molte scuole non sono adeguate sismicamente perché costruite prima e poi non si è intervenuto dopo per farle, perlomeno non in tutte. Allo stesso tempo vorremmo interessare i ragazzi anche un po' al mondo delle scienze della terra, che è un mondo affascinante dentro i quali ci sono i rischi, la prevenzione del rischio, anche quello idrogeologico che è un grande tema per l'Italia, ma c'è anche il tema delle risorse. Circa 200 i ragazzi delle scuole molisane che verranno coinvolte in quello che è un progetto volto alla sensibilizzazione e alla prevenzione. All'evento ha preso parte anche Dino Di Renzo, sopravvissuto al crollo della scuola di San Giuliano, che ha ribadito l'importanza di una materia come la geologia per prevenire eventuali tragedie. La prevenzione è una cosa fondamentale in Italia, perché l'Italia è un paese ad alto rischio sismico, quindi tramite la prevenzione combattiamo contro la paura e soprattutto contro gli abusi edilizi che mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini. Quindi queste iniziative servono proprio ad abituare, a cercare di far avvicinare le persone, in questo caso i bambini, alla geologia, per conoscere e per fare in modo che la conoscenza faccia in modo che catastrofi come quella che è successa a San Giuliano il 2001, che è successa ad Aquila il 2009, non succedano mai più. Una convention dunque che prevede anche un concorso per i ragazzi delle scuole di Campobasso, San Giuliano e Baranello e che mira a tenere alta la soglia di attenzione per un problema sempre vivo in regione.